Siamo qua al rifugio Roccoli dove abbiamo parcheggiato la macchina ora ci dirigiamo verso la Cadilegno per andare ad affrontare il canale Sognano Siamo finalmente giunti alla Cadilegno, ora correndola frontalmente si scende alla destra per arrivare verso il canale Dopo un breve attraverso in discesa dalla Cadilegno finalmente si raggiunge il canale Soviani che è qua lì dietro alle mie spalle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo qua all'uscita del canale, ora ci dirigiamo verso la Croce del Legnone per poi scendere dalla Via Invernale Grazie a tutti Grazie a tutti